... ... ... ... ... ... ... Manuel Bacca è stato staccato in questo momento quindi anche per lui un applauso prima dell'inizio del Twin Drift vi ricordo che qui non ci sono tempi ma si assegnano dei punti in base all'attacco vicinante a due macchine angolo di scherzata che i due piloti otterranno in base ai clipping point che sono stati posizionati in pista grazie a tutti grazie a tutti per poter guidare bene in un circuito così tortuoso dove sono tante curve poco spazio per respirare grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti